fai il furbo ma adesso noi battiamo questi due molto bene qui dalle sue carica infatti facciano farlo noi farvi vedere il boss è vero se potrebbe questi ragazzi e mille molto gentile molto bene andiamo a fare il campionato fenomeno basta sti consigli andiamo a fare il campionato di fenomeno vabbè sviluppo filmato grazie e il modetto strano non andiamo a farlo da fa prossima volta anche perché la prestazione sa che non lo legge cambiato fenomeno ok vai con crash ci sta nel video ci sta per forza ci deve stare per cercare il camera station poi ci sta tutto quello che vogliamo ok posto sono in due da come vedete non si vede queste qui non fanno saltare il coso quindi vado qui ok vado subito fregato questo qui devo assolutamente star la partenza dell'addio aspetta ritrovo perché se questo questo dietro mi piace delle bolle che mi allentano e quindi devo assolutamente stare davanti non devo sbagliare niente non c'ho voglia vado vedete mi tirano delle cose lui tira dei quadrati l'altro tira delle bolle e poi non so neanche come si chiama quell'altro dai suono prima e poi non so neanche come si chiama quell'altro dai suono prima che è tipo una doppia personalità questo non ho capito sicuramente non voglio farmi superare ecco come con nash qui si sono fermati anche questo è fermato qualcosa si è fermato il mulino in questo caso perché non ci sono le cose c'è il mulino fammi questo favore che si è fermato il coso ma non si è fermato l'orologio vabbè tanto non è che tanto è più o meno se vi ho mangiato da i vermi e il colmo vabbè ho letto il colmo guardate dov'è e guardate dove sono io cioè io lo è indietrissimo vabbè pure che turbo è adesso vabbè ah niente da fare vabbè c'ho tempo ho tempo ho tempo in verità c'erano sempre a quanto è il senso perché la lappa è verità si chiama tempo scaduto bene ma da paganti ma tutta la notizia da tavano come di caso di caso questo va accelerata che stanno giocando per questo che si sente il rumorino sotto tanto simpatico molto molto simpatico e quindi mi scatello vai vai su niente ok questo è il colmo è il colmo abbiamo aggiunto il colmo in questo episodio abbiamo aggiunto il colmo a questo video attività prima si intrecciata la play poi non riesco a saltare poi salto e non vado a sbattere contro delle cose inesistenti esistenti ok dai andiamo avanti che è qui sapete ve la siete cavata bene là fuori avete buona probabilità di vincere perché lavorate insieme anche voi due siete una bella squadra ehi vieni qui e comportati bene fa finta che la cosa non gli importi ma è come me voglia perdere norm vieni qui forse devo trovare dei nuovi metodi per motivarti come privarti dei tuoi libri ma non sarete così fortunati su tecniche molto bene quindi adesso brava tutto anche questo boss e dovremmo fare anche ovviamente dovevo prendere anche quei tragettoni e telelique e dovevo fare anche una pistina il percorso il livello del gettone viola che lo faremo ovviamente che questo qui la prossima volta perché ho assolutamente intenzione e voglio di farlo perché sicuramente vi servirà 5 volte non 3 volte 5 volte a farlo sicuro 5 volte quindi ragazzi quindi se i video vi sono piaciuti su questo video mi piace questa prima volta che gioco due giorni di finale lo prometto prossimi di carriera sono su world of final fantasy la prossima settimana e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao